Un cordiale saluto da Andrea Biagioni di Firenze Smart per gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Partiamo dalla 1 dove a causa di un veicolo in avaria si registra un chilometro di coda tra Val di Chiana e Chiusi Chianciano verso Roma. A causa del traffico intenso invece code a tratti tra Firenze Scandicci e il Bivio con la variante del Valico in direzione Bologna, a segnalare anche code all'allacciamento con la 11 provenendo da entrambe le direzioni. Sempre a causa del traffico intenso code in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. In Fipili a causa del traffico intenso in direzione Livorno code a tratti tra San Miniato e Santa Croce sull'Arno e code in uscita all'Astra Signa, San Miniato e Santa Croce sull'Arno. Code a tratti anche in direzione Firenze tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!